Per Piemonte e per l'Europa, Genda piana e gen libri, Sum alerta al gisla piota, Cum ardurti dai antì, Piemonte al dita d'amur, Caladane al creatur, Piemontei, Piemonteo vivem, Si brandet del nostro lupo. Oh, ma guarda un po' che in Piazì em fa telegranda, em fa Piemonteo vive, l'associazione, anche me, faccio parte di questa associazione, e pudei tornare a stare con voi altri, che siete tranquilli aca. Questa è la seconda punta della storia del Viale di Angei. La volta passata l'ha diudita che, per capire come mai Cuni la questa blossa naturale del Viale di Angei, ventava prima di perché gli stai e gli è, l'accesa della Madonna di Angei con il suo convento, e poi di che gli è stai e il Beato Angelo, e tre di che gli è stai e il Barun Litrung. La volta passata, ieri arriva quasi a finire il parlete dell'accesa e del convento. La via diudita è che in tanti anni stanta e utanta, quella che ha riposo, che l'era diventata mater amabili, sezione angeli, all'era guarnata della Comunia, poi la Comunia la passata all'usl, e poi dall'usl le passa all'asl, e continua essi parei. E quindi summa che l'ultima novità, proprio di questo anno del 2023, è che la calera mater amabili, sezione angeli, diventerà una residenza sanitaria assistenziale come ospedale di comunità. E ancora una notizia importanta da te a proposito dell'accesa. La notizia le costa. Suma al di 30 december del 1996, quindi 26 anni fa. In custa accesa, in l'ora, come anche adesso, a quattro ore del domesdì, hai sempre la mussa, e le tanto frequentà, perché le musse in custa accesa l'hanno sempre tanta gent che le affessionà e che veng volentè a pregare in custa accesa. Allora, ha le tre bot menù vinti. E cosa capita? Capita che, senza nion preavis, nion se l'aspettava, col di 30 dicembre, la cupola del santuario aveva in giù, ruina giù. Per fortuna, in quel momento, in cesa, n'era ancora nion. E tutti l'hanno subito di, l'estate, torna un miracolo del nostro Beat Angel, perché bastava ritarder, n'ora, il crol, e sotto la cupola sarebbe stato pieno di gente e sarebbe stato una strage. E va bene. Allora vediamo l'ascun motivo che spiega perché agli è il viagli angeli. L'ascun motivo l'è perché alcuni alle morte il Beato Angelo Carletti d'Achivasso. Il Beato Angelo Carletti d'Achivasso, l'hai dilu la volta passante, il mila in cent e trante sing all'estate purta proprio in la cesa della Madonna di Angeli. E la gente voce proprio tanta bene e quindi la devuzione della gente con il ma anche di Paese d'Antur al Beato Angelo Angelo Carletti nato a Chivasso aumentava sempre. Anche il Comune voce tanta bene e ogni volta che era in pericolo facendo preghiere nuene al Beato Angelo pensò che nel 1781 il Comune la dichiarò per iscritto in una delibera che lo dice con le parole italiane per le lecce da tempo immemorabile. Il Beato Angelo era considerato lo speciale protettore e difensore della città e dei suoi abitanti. Come mai il Comune la fece son? Ma perché da tanto tempo la via Ciamà al Vesco di Mundui perché Cuni fino al 1817 fazia parte della Diocesi di Mundui la via Ciamà fece le carte perché fu proprio il pronunciamento ufficiale della Ciesa che il Beato Angelo era Beato. Niente, le cose mi hanno anche andato un anno avanti. Poi nel 1770 e la pratica passa a Roma alla Congregazione dei Santi. Quindi va bene adesso si occupa Roma perché in l'ora a Roma la pratica per cui la documentazione le prove le dichiarazioni di testimoni per fare un Beato e poi magari diventare Santa era un lungo non ma gli uffici di Roma c'è ma un cotto il frano loro c'è un pochi e allora dobbiamo dirlo che chi la pagà le spese per la beatificazione del Beato Angelo Carletti all'estai proprio il Comune perché Comune e Beato Angelo erano proprio gruppa ecco il Comune sabia che qualche era un problema pedia proprio preghiera nuene al Beato Angelo finalmente 1753 il Papa dell'Ura chiamava Benedetto XIV firma il document che dice se il Beato Angelo Carletti da Civaccio è Beato ed l'Ura la devuzione è ancora aumentata e Jung diceva ben magari il Beato Angelo stia tranquillo in tempo ma che era già morto da tanti anni e quindi chissà le giunture della sua salma come ieri ma le passei sempre tranquilli perché la storia dice che ogni volta c'era il pericolo per alcuni dove nascedi e chi volia sempre sedia alcuni a ieri gli spagnoli e i francesi alle insieme allora l'ave un paura che l'esercito nemico che buttava anche il suo camp il suo accampamento proprio lì d'anturno alla Cesa in che maniera pade un cre dann al nostro speciale protettore e allora cosa fasi un pia un la l'urna di cristallo due due drinta a il beat angel e lo portavano in città in una delle nostre cese per esempio l'am portavano descrivere a milano e allora la gente la via ve e pude senti visin la protezione del beat angel e parei l'am portavano gi poi l'am portavano nel 1639 quando c'è un cun c'è un momento di guerra civile ma già erano due pretendenti al trono di Savoia che fasi un la lotta le due fasi chiamavano i principisti e i madamisti e allora torna il comun la di portavano drinta poi ieri torna il pericolo della sedia e ancora nel 1690 torna portavano a Cuni e poi nel 1606 e poi nel 1744 insomma vedi che veramente la gente sentia che la presenza del Beat Angel dava forza e coraggio e stai poi un periodo dove l'urna del Beat Angel stai tanto tempo in Cuni e pensi un po' le stai dal 1802 fino al 1822 per 20 anni e all'esteta tenua un tel dom se capita d'entrer un tel dom fe attenzione intra alla vostra sinistra se il prim pilum vedi una lapide che ricorda proprio come per questi 20 anni il Beat Angel all'esteta in tel dom e tut servia a aumenter la devusione infatti proprio in quei anni all'ancò fondare la compagnia del Beat Angel quando mi ero giù ma snà mi vivio in piazza Galimberti nella parrocchia del dom ricordo ben che era ancora la compagnia del Beat Angel che dun ci marra e va ben poi sarà finita questa mania trasportello anche perché povera salma e chissà quanti sucro lung patì in questi trasferimenti ma che mi non ricordo più ma i nostri vedi disomma i nostri genitor nostri cui della mia generazione quindi i nostri genitor probabilmente ricorderanno che l'ultima l'ultima processione per portare 30 cunei il Beat Angel all'estate a cuneo del 5 agosto del 1950 chi mi escuta e cala quei anni un po' pide ad mi provi un po' a pensare ho ricordi quei cos quanti anni l'ha vinto il 1950 quanti quanti un del dom l'ha portata appunto per l'ultima volta il Beat Angel dopo l'ora il Beat Angel riposa tranquillo la sua cappella e aspetta sempre chi vena a venerelu e vena a preghelu perché ripeto l'è lo speciale protettore e difensore di cuneo e dei suoi abitanti terza causa che spiega perché l'am fei il Vial di Angel La terza causa l'è el barun litrung litrung l'è l'adattament piemunteis del nom et cust general così importante in la storia cuneo che l'era el barone quindi l'era nobil Carl Sigmund Friedrich von Leutrum se scriu Leutrum ma in tedesco EU slash O infatti penso almeno che tutti se che il famoso psicologo Sigmund Freud se scriu Freud e pronuncia Freud parei come se scriu Leutrum e se pronuncia Loitrum e parei da Loitrum la Piemontesalu en Litrum ma che la feite è un problema perché quasi sempre quanto in capita et conteca i cos del barum Loitrum Leutrum in Piemonteis la gente dice eh già che la Francia malu Leutrum Loitrum perché Leutrum perché i piasi a bevi ma niente affatto perché il liter fa parte del sistema metrico decimale e il sistema metrico decimale in Piemonte all'ambitale nel 1847 quindi nel 1747 era niente e quindi Leutrum vuole proprio niente dire che era un che vai via troppo allora del 1744 Cunni le turnali per avere una sedia sempre francesi e spagnoli alle insieme e il re Carlo Emanuele III era molto preoccupato perché se Cunni resiste non alla sedia inemis dopo Cunni vanno avanti in la pianura e vanno a portare la sedia direttamente a Turing e allora il re ciama i sogenerai in gamba e disse a loro chi è che garantisce che difenderà Cunni in questa sedia e il Barun Loitrum dice maestà mi vedrà che farei vincere la sedia il re è proprio contento e infatti Loitrum vengono a Cunni organizzano bene le sue difese e dopo più di la sedia i francesi e i spagnoli hanno visto che contro Cunni difendendo dal Barun Loitrum hanno detto niente da fare lasciano la sedia che gioia che goi per il re e allora il re Carlo Emanuele III vengono a Cunni perché l'era la regola che quanto in generale avvincia una battaglia o vincia una sedia resistia una sedia il re Iufria un premio importante vengono a Cunni e dis Barun Loitrum cosa vengono a Cunni come premi noi pensiamo magari l'avrà c'ha mai zolt potere ma che Loitrum c'ha una cosa che fa tanto un'ur a noi a Cunni e alla nostra storia perché dice Maestà mi voglio fare il governatore e Cunni finché vivi vita naturale durante quindi a inafasia niente di solde e l'or velmac vivi sempre a Cunni e il re è ben content e contentelu e lo nomina governatore a vita di Cunio governatore sarebbe un po' come adesso il prefetto per la provincia e il governatore era come il prefetto adesso per la città e Cun il barun Leutrum la via cattà nascita cà l'era neng spusasse Leutrum la via cattà nascita cà proprio vizin all'accesa della Madonna di Angeli estasi ali e quasi tutti i dì i era na carossa en cavall che lupiava e lo portava ante il palazio del governatore dove era il palazio del governatore il palazio del governatore a'era due adesso a'era il palazio della prefettura in via Roma quindi le sempre state il palazio del rappresentante dell'estate del governo poi Luceve le diventà famosa per questo fatto che l'Eutrum l'Eutrum all'era barbet si dice a pare cioè l'era protestante all'era luterano quindi cristiano ma luterano che all'antel 1655 sent che la morte s'ausina e allora fa testamento fa testamento e il re Carlo Emanuele veng per su una a truelo lui veng a truelo per dire Barone fate cattolico fate battesè come cattolico pare avrà il diritto di sottra drinta nacesa e che dice no maestà le ne la paura della morte che fa cambiere idea o buon barbet o buon cristiano canta e mi hai cantato ma tante tante volte la bella canzone popolare Slamor del Barone Litrum parei mör e veng sutra in terra valdeisa la citta località zura le valli valdesi in Angronia ecco ma intanto a jera già el nos vial allora peduma di che el nos vial allè steit feit per sudisfer un gros desideri del Barone Loitrum perché la strada che portava dalla sua ca che come lei diva era propria ramba alla cesa fino al palazio del governatur era una strada cita con tante curve et custa stracita iancura cei cos calerest aie lera poi ciamasse via bodina e iancura toc et via bodina ecco quante eu capita et caminè in via bodina pensè che tante tante volte anche il Barun Leutrum ale venu lì e allora nel 1742 il Comune decide invece et fa questa grossa alea per due motivi per dimostrare l'amor che l'avia per il Barun Leutrum e neanche scritte per incrementare via più la devozione al beato angelo il via alena cosa stupenda pensand al tempo 1742 che l'estate fei perché alena lea larga set trabuc cioè vintun metri con una strada un mese e due via alato due via con l'erbo che d'anglura anche continuo a rendere bella la nostra spagiata l'erbo d'anglura e anche sono tigli e olmi l'erbo di di grazie all'accesa di grazie al beato angelo carletti ma ma soprattutto quando si capita di passare di di grazie con l'intensione al baron leutron il vial perché chial lavursolo ben us saluto e arve se per piemonte per l'Europa gente piena e gente libri sum alerta vis la piota con l'ardor di d'ai antì piemunt tardi tadamu caladà nel creatur piemunt e siem un deo vive si brandè del nostro lup o Grazie a tutti.